salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ragazzi bellissimo sta nevicando e con la neve si può volare tranquillamente se nel nostro parco droni abbiamo lui il power egix che vola quando piove ma vola anche quando nevica quindi ragazzi sono super emozionato non vedo l'ora di fare questo volo sotto la neve per vedere che risultato cinematografico si riesce a tirare fuori da una situazione di questo tipo sicuramente unica perché vi ripeto volare con un drone mentre nevica normalmente non si può ma con il power egix tutto diventa possibile quindi ragazzi direi di non perdere altro tempo si decolliamo qua nelle campagne brianzole e vediamo come riprende il power egix sotto una nevicata ragazzi partiamo grazie a tutti 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 Grazie a tutti